Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Ecco oggi vorrei fare una chiacchierata anche per darvi alcune anticipazioni sulla nuova stagione. Prima di tutto però vorrei augurarvi un felice Natale. Ecco per tutte le persone che mi hanno seguito in questi anni auguro veramente un Natale sereno. Ecco ci saranno nel prossimo anno sicuramente tante nuove puntate, tante nuove recensioni di orologi e anche tanti altri video che appunto fanno parte insomma della storia dell'orologeria. Ecco vedremo appunto parleremo un po' di quello che sono gli youtuber internazionali, poi parleremo di storie, soprattutto sto cercando storie che riguardano l'orologeria ecco e appunto vorrei insomma cercare di fare alcuni video anche su questo argomento e poi ecco alcune anche recensioni su orologi. Ecco la prossima sicuramente riguarderà un nuovo entrato, era tanto che lo aspettavo, è uno Junganz Max Bill, questo è un orologio a ricarica manuale quindi non è l'automatico è soltanto il manuale. È un orologio particolarmente bello, è un orologio particolarmente importante perché è stato l'orologio che è stata la marca insomma la Junganz che ha collaborato con uno studente vero della della scuola Bauhaus che appunto era Max Bill. Infatti questa serie no della della Junganz si chiama proprio Max Bill e sul fondello c'è proprio la firma no di Max Bill quindi è un orologio molto semplice, è un orologio che insomma era già da molto che cercavo insomma di trovarlo a un prezzo accettabile e finalmente ecco insomma sono riuscito a trovarlo. Ecco poi faremo la recensione di un orologio che a dire la verità è con me da tantissimo tempo e l'orologio è questo è un EVC dopo il cronografo. Vi avevo anticipato che poi avrei fatto... no è l'incontrario... no sì sì va bene... vi avevo anticipato che avrei fatto la recensione di questo particolare orologio poi in pratica eccomi è sempre andato... sempre stato posticipato da orologi che sono arrivati poi successivamente perché so per fare anche le recensioni bisogna essere anche preparati non è che ci sia così tanta documentazione insomma su orologi che insomma sono... questo diciamo è un 2002 quindi non so se può essere considerato un vintage ma insomma comunque un orologio che c'ha qualche qualche anno ora sono usciti dei modelli più grossi come come diametro io l'ho preso usato insomma diversi diversi anni fa comunque prima di avere questo prima di avere questo canale ecco la funzione di questo di questo orologio il movimento è un 77 50 età quindi un movimento direi tra i cronografi più comune che c'è sulla sulla piazza il più utilizzato la particolarità è appunto il doppio cronografo poi lo vedremo meglio nella nella recensione ecco poi oltre appunto agli orologi quando arriverà appunto la stagione migliore ricominceremo anche con qualche video su sulle moto quindi sulle tecniche di guida su diciamo argomenti insomma che riguardano anche questo anche questo argomento ecco in molti a dire la verità mi hanno scritto anche privatamente mi hanno detto ma perché non fai più video sulle moto una cosa e quell'altra il motivo è molto semplice che il tempo purtroppo cioè il tempo meteorologico purtroppo non è molto favorevole d'estate se io prendo la moto dieci volte due volte prendo con me la telecamera e faccio un video io la moto la sto utilizzando ma per esempio questo mese qui sinceramente l'ho usata soltanto una volta quindi l'ho usata proprio per sono arrivato appunto a viareggio quindi ho fatto circa 30 chilometri 40 chilometri andare 40 chilometri a tornare ho fatto più che altro per per farla muovere no per ricaricare le batterie per insomma per farla girare un po ma non è diciamo una volta sola non basta no per fare poi un video bisogna usarla un pochino di più ecco per avere la possibilità appunto di fare dei video su youtube e quindi ecco questo è comunque quando arriverà la stagione buona sicuramente rifaremo delle altri degli altri video in più sapete che il piccino il mio amico che non è che si interessa molto di moto però è il mio praticamente cameraman naturalmente ed estate viene con queste temperature qui insomma non me la sento ecco di portarlo anche perché non non ha il vestiario pesante non è cioè non è preparato con non è preparato ecco con vestiti tecnici quindi insomma ora mi sembra un po sforzato ecco di portarlo per fare le registrazioni comunque state tranquilli che sicuramente nel prossimo futuro insomma quando la stagione diventerà migliore sicuramente riprenderanno anche questi questi video che ho già in mente già diversi argomenti da trattare a breve avrò anche la possibilità di intervistare una persona ve l'ho accennato già diverse volte si chiama manuel è veramente uno dei pochi esperti della della seico ecco nonostante che la seco sia così popolare nei social media su youtube su facebook insomma su tutte le piattaforme veramente la seco oggi sta veramente guadagnando tante posizioni almeno per quanto riguarda l'italia l'europa insomma ecco ma effettivamente ecco diciamo che la seco non è che sia molto disponibile per scrivere la propria storia per dare tante informazioni ecco non è che si trovano facilmente ecco informazioni fonti su questa su questa azienda anche il fatto che sia giapponese sicuramente non ha aiutato quindi andare a cercare quelle che sono le informazioni su questa azienda non è sempre facile e quindi gli esperti in italia sulla seco sono veramente pochi quindi insomma è veramente una cosa molto positiva ecco avere questa possibilità insomma ecco di intervistare manuel e anche di vedere un po quelli che sono gli orologi no storici della della seco per ultimo vorrei ringraziare anche i miei colleghi youtuber no in particolare marco bracca del canale eurista addiction poi c'è paul del canale consigli per gli acquisti c'è mattia del canale watch maniac c'è pierpaolo cassoni del canale under the sea time ecco veramente sono stati di grande aiuto sono stati un supporto fondamentale no che mi hanno veramente aiutato per portare avanti questo questo canale poi vorrei segnalarvi un canale che c'è da qualche mese e che si chiama maurense monkey ecco questo canale è portato avanti da un ragazzo che c'ha un negozio di orologi quindi insomma ecco in questo in questo canale potete trovare veramente tanti orologi interessanti da vedere e sicuramente è una persona molto preparata per quanto riguarda i vintage a questo punto io vi ringrazio per avermi seguito insomma in tutti questi tutti questi anni e vi auguro veramente un sereno natale e insomma spero che mi seguiate anche nelle nelle prossime stagioni e a questo punto non mi rimane che salutarvi e vi auguro veramente un felice natale ciao a tutti